buongiorno a tutti io sono sean e state guardando salt il mio canale che parla di sport e altri argomenti interessanti alle mie spalle c'è quasi un cantiere quasi un edificio in rovina in realtà è un'ala della regia di caserta in via di restauro e stiamo andando a ritirare il pettorale per la gara che si chiama la maratona dell'acquedotto carolino quindi ci aspetta una 45 chilometri di corsa oggi poi ci sono altre distanze la 25 e la 15 l'arrivo di tutte e tre le gare sarà all'interno della reggia è sicuramente un giorno d'inverno quindi dopo una settimana dal trail dei limoni siamo passati da estate dritti dritti all'inverno trasformazione pre gara avvenuta quasi per tutti il tempo non è perfetto però comunque non ci sarà sole a rallentarci mettiamola così in bocca al lupo e ci vediamo l'arrivo viva il lupo viva il lupo viva il lupo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti